Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora in questa lezione andremo a vedere come utilizzare i driver ODBC. Ok, una cosa molto importante è quando lo utilizzeremo attraverso Access. Allora facciamo un collegamento con Excel, quindi andiamo ad esempio nel menu dati, facciamo recupera dati, andiamo su da altre origini che sta qua giù, ovviamente facciamo anche uno zoom, e poi selezioniamo da ODBC. Perfetto. Quando noi clicchiamo questo driver qua, cosa succede? Ci dice, guarda, dici quale driver vogliamo utilizzare, ok, e qui vedete c'è SQL Server Generale che l'abbiamo creato a inizio corso, ok. Se per caso non ce l'avete, in sovraimpressione trovate il video che vi spiega come crearlo. Comunque scrivendo ODBC in basso e accedendo a quello con i bit nel quale il nostro sistema operativo è configurato, andando su DSN di sistema, ecco che lo troviamo qua, ok, e l'abbiamo configurato e eventualmente qui si può aggiungere. Quindi qui facciamo SQL Server Generale. Se vogliamo fare una query all'interno del nostro SQL Server, dobbiamo premere opzioni avanzate. Se noi facciamo opzioni avanzate, qui possiamo scrivere una query in T-SQL. È come se noi andassimo nel nostro Management Studio, ok, e facciamo una selezione, e qui ci mettiamo a scrivere la nostra query, che può essere magari un select from questo database qua, ad esempio, ok, e tiriamo fuori queste informazioni qua, piuttosto che andiamo a farla più complicata, perché dobbiamo andare a leggere più tabelle, assemblarle, e facciamo un premasticamento lato SQL. Quindi quando noi su Excel andiamo a fare appunto opzioni avanzate, qui andiamo a scrivere una query, quindi select, asterisco, from, db, schema, tabella, e poi magari facciamo left join, e ci tiriamo dentro altre informazioni. Se noi compiliamo la query a questo livello qua, ok, facciamola valorare l'istanza SQL, e utilizziamo tutta la potenza dello script SQL. Io tendenzialmente, quando utilizzo Power Query, cerco di fare un po' un mix, in modo da alleggerirmi un po' le modifiche, le logiche, anche perché comunque il SQL è sicuramente più veloce di Power Query, non c'è dubbio, però dovete scrivere tutto codice. Quindi cercate di portarvi dentro le informazioni che più vi servono, qui magari al posto di tirarvi dentro tutti i campi, vi tirate dentro il campo 1, il campo 2, e così via, solo quelli che vi servono. Cercate di fare un'importazione di solo le cose che vi servono. È molto importante avere sempre un dato pulito quando andate a lavorare poi nel frontend. Quindi qua ipoteticamente potreste scrivere la query. Se non scrivete niente, ok, e premete ok, lui vi presenta praticamente quello che c'è dentro l'istanza di Amazon Studio. Vedete, adesso io qua sono dentro come amministratore, ok, e lui praticamente mi fa vedere anche quelli di sistema, ok. Vedete, qui c'è il master, il model non me lo fa vedere, ma comunque mi fa vedere un po' quello che c'è. E c'è anche quello nostro. Adesso, ripeto, siamo dentro come amministratori. Io entro sull'MCSS, vado sulla model, e mi prendo ad esempio la product detail. Di qua mi dà un anteprima di quello che sta andando alle 100 a leggere. Infatti qui vedevamo che avevamo fatto la view in cui incrociava già due dati, quindi io posso anche farmi le viste all'interno di SQL Server, per poi collegarmi direttamente alla vista senza magari andare a scrivere un codice come vedevamo poco fa. Ok, fatto questo, se facciamo carica ovviamente, o carica in, va direttamente su Excel o su Power Pivot, altrimenti facciamo trasforma dati. Quando facciamo trasforma dati, ecco che noi abbiamo la nostra tabella, ok, product detail che è di qua, che è stata importata all'interno di Power Query. Quindi lui qua crea due passaggi, vedete, origine, dove lui dice appunto che usa questo driver qua, e basta, praticamente c'è questa informazione qua. E poi fa un passaggio di navigazione, dove dice che stiamo prendendo questa tabella qua dallo schema view. Ovviamente se utilizziamo questa tecnica portiamo tutto il dato che c'è all'interno della tabella. Se la tabella ha 10 milioni di record e è fatta su 6 anni di storico diversato, ad esempio, e a noi basta un anno, non è una buona idea portarsi dentro l'informazione in questo modo, perché poi dovrei andare ad esempio qua e fare un filtro sull'anno, però lo faccio su Power Query, quando ormai il dato io me lo sono portato dentro, ok? Quindi fate attenzione perché veramente utilizzare anche la query, quindi torniamo su altre origini, odbc, qui selezioniamo il driver, facciamo select, anche asterisco, from tabella, where, anno uguale a 2020 ad esempio. Ok, così facendo io vado a tirarmi un Power Query solo quell'anno, e il tutto diventa molto più veloce, quindi questo è veramente strategico. Non sottovalutate questa parte qua, se potete applicate sempre un filtro con il codice, quando vi leggete l'informazione, così appunto stringete i set di dati che vi portate in corpo, e Power Query lavorerà sicuramente meglio. Anche se poi andate a fare subito un filtro, lo tagliate, comunque andate a fare una lettura completa della tabella, e non è una bella cosa da fare. Quindi questa è una cosa utile che potete andare ad utilizzare. Vediamo un altro software, ad esempio MS Access. Allora, qui facciamo ad esempio un database vuoto, lo salviamo dove volete, facciamo Crea. Perfetto. Allora, lasciate stare che adesso sul mio computer vedete delle tabelle nascoste, non fateci caso. Qui se vogliamo collegarci è leggermente diverso utilizzando il driver dvc. Da dati esterni, quindi nuova origine dati, se fare proprio dati esterni, nuova origine dati. E qui andiamo sempre giù, da altre origini, i driver dvc sono sempre dentro da altre origini, a meno che tra qualche anno non si inventino di spostarli come di solito fanno. E qui cosa facciamo? Prendiamo appunto i dati da un database o dvc. Clicchiamo qua, e qua ci dice, guarda, vuoi importare in accessi i tuoi dati oppure li vuoi collegare? Noi in questo caso, ad esempio, li colleghiamo, quindi noi saremo un collegamento diretto con il SQL Server. Ok? Quindi quando noi facciamo collegare, facciamo ok, lui ci dice, ok, bene colleghiamoci, dimmi il riferimento di dov'è questo SQL, quindi là qua compare sta finestra e voi potreste dire, sì ma cosa devo scrivere su nome dsn? Qui potreste andare a creare un driver a manina, scrivendo completamente la stringa, ma non ha senso. Noi andiamo semplicemente su origine dati computer. Ecco che qua, anche qui troviamo, vedete il nostro driver SQL Server Generale, che però adesso probabilmente non funzionerà. adesso noi facciamo ok e vedete, io qua vedo praticamente, collegandomi a quello, io vedo praticamente le tabelle che ci sono dentro al nostro SQL Server, però vedete, non trovo lo schema dv e non trovo neanche lo schema model, è il motivo per cui vi dicevo che probabilmente non avrebbe funzionato. Trovo solo le tabelle di sistema, perché Access è un po' più delicato, vuole le cose scritte un po' meglio. Allora, Excel è molto più intelligente, ha una tecnologia molto più nuova e quando voi fate un driver, lui come vede, se voi avete le grant per leggere le cose che stanno dentro al SQL, lui vede tutto con il driver. Invece, Microsoft Access è un po' più delicato, quindi dobbiamo andare sul nostro DBC, andare ad esempio sul driver che abbiamo appena, che avevamo creato e quando lo abbiamo configurato, ok, andiamo avanti e avanti, a un certo punto si arriva qui. Uso il seguente database predefinito, adesso qui si legge anche un po' malino. Comunque si sceglie questa cosa qua e gli dobbiamo dire su quale database questo driver andrà a lavorare. Allora Access riuscirà a vedere il contenuto di questo database. Se io lascio quello di default così, non flegato, lui vede solo le tabelle di sistema, purtroppo. Quindi si flegga qua, noi gli diciamo che vogliamo lavorare con le tabelle di Masterclass SQL Server, quindi gli diciamo, guarda, questo driver lavora su questo specifico database. Purtroppo, se avete tanti database e volete lavorare tanto con Access, dovete fare un driver per ogni singolo database, perché Access non riesce proprio ad usare il driver odbc in modo completo. Quindi qui si fa avanti, fine. Ok, perfetto. Noi abbiamo modificato il driver. Se adesso noi andiamo a ripetere l'operazione, quindi nuova origine dati, altre origini, database odbc, facciamo un bel collega, ok, origine computer dati, lo riprendiamo, ok, premiamo ok. Ecco che per magia sono comparse le tabelle dello schema DV. Ok, vedete? E comunque vi fa sempre vedere anche le tabelle di sistema, queste qua. Se siete amministratore mettetevi le animo in pace che le vedrete sempre con Access. Perfetto, qui in breve basta selezionarla, fare ok, diamo ok, qui ci presenta i campi che vogliamo importare, ok, noi selezioniamo tutto comunque, diamo l'ok, e ecco che compare qua con un bel mondo, ok, questa significa con la freccetta che è linkata al mondo di SQL Server, quindi quando noi facciamo click, quando io faccio click vado a fare una selezione nel SQL, quindi sto eseguendo una query nel SQL Server e mi viene restituita in Access così, ok, e qui magari se avete tanti record lui vi fa un'anteprima magari dei primi mille record, però non ve li mostra tutti, se poi premete il trattino che va in giù lui inizia a eseguire tutta la query su SQL, quindi non è che se voi avete una tabella da 100 milioni record in SQL quando l'aprite effettivamente lui va a leggere 100 milioni record lui legge un piccolo set giusto per mostrarvi qualcosa poi se dovete fare delle operazioni conviene sempre farsi delle query e andare a leggere il suo contenuto bene, con questa lezione mi fermo qua che dopo sulla prossima facciamo un piccolo approfondimento sulla parte di Access e la modifica dei dati all'interno di SQL come sempre se la lezione vi è piaciuta lasciate un bel like iscrivetevi se non siete iscritti aiutatemi a far crescere il canale condividendo i video le playlist all'interno dei vostri social mettete sempre una buona parola se ne avete voglia e vi saluto alla prossima lezione a presto ciao ciao